Il cuore del commercio riminese si anima anche nelle ore serali. Dal 27 giugno, ogni mercoledì fino alla fine di agosto, ambulanti e artigiani si aggiungeranno alle attività del mercato coperto per accendere l'intera zona anche con musica e animazioni. Un'iniziativa promossa da CNA, Associazione Arcas e commercianti delle vie Castelfidardo e Michele Rosa. Il protagonismo, l'attivismo da parte dei commercianti che abbiamo visto in questi anni è davvero importante perché è una città che anche la sera in estate è aperta con i suoi negozi è sicuramente un fattore di attrazione notevole per tutti i nostri turisti. I commercianti ci sono, sono motivati, hanno voglia di animare la città perché questa è una bellissima città, fra l'altro con gli interventi degli ultimi due anni dell'amministrazione e quello che sta ancora facendo l'amministrazione ci sta mettendo nella condizione di poter lavorare bene e di presentare un biglietto, il vero biglietto da visita di Rimini perché dove vai c'è un angolo da scoprire. All'interno del parcheggio di Piazzale Gramsci andremo a far lavorare dei commercianti veri e propri, degli ambulanti, del banchi del mercato saranno all'incirco una quarantina e sempre all'interno del parcheggio verrà allestito un palco dove si esibiranno scuole di danza romagnole, folk esibizioni di musica dal vivo, anche questo fondamentale ma la cosa più bella la quale tengo è anche voler portare nel centro storico i bambini quindi ci sarà animazione per bambini con gonfiabili, animatrici e giochi e andiamo anche ad aggiungere un valore aggiunto che saranno gli artigiani. Se vi accendono così i riflettori sul mercato coperto in attesa di capire come proseguirà l'iter per la riqualificazione dell'area dopo il progetto presentato oltre un anno fa da Conad disposta anche a mettere sul piatto 15 milioni di euro. Non ci siamo dimenticati di un progetto di finanza che è stato avanzato da parte di un soggetto privato è chiaro che sono procedure delicate, sono procedure che richiedono approfondimenti e anche nel momento in cui l'amministrazione poi dovesse decidere di procedere con questo progetto di riqualificazione verrà fatto un bando, un'evidenza pubblica all'interno della quale qualsiasi soggetto privato si potrà fare avanti per andare a riqualificare sicuramente uno dei poli commerciali fondamentali della nostra città e del nostro centro. Questo che è alle mie spalle il mercato coperto è davvero il cuore del commercio riminese.